Video 4K da Samsung Galaxy S8 con stabilizzazione ottica ma anche stabilizzazione elettronica questo è uno zoom 8x, torniamo indietro, c'è anche un nuovo selettore per quanto riguarda lo zoom digitale movimento rapido, cambio di luce, cambio di messa a fuoco, devo dire sia veloci che anche abbastanza fluido come transizione registrazione video 4K Samsung Galaxy S8 registrazione in 2K dalla fotocamera frontale di Galaxy S8 tra le altre cose appunto risoluzione 2K per la fotocamera frontale che è veramente niente male ma c'è anche l'HDR, quindi facciamo... c'è anche l'HDR video in tempo reale vediamo poi, lo riguarderò per capire come è venuto nuova fotocamera frontale appunto di Galaxy S8 con tra l'altro autofocus quindi adesso sono a fuoco io in realtà poi sono già abbastanza lontano ma insomma vedete che si passa dall'essere completamente a fuoco all'essere un pochino più sfocato non lo riguarda Grazie a tutti.